L'adeguamento strutturale dell'economia richiede di continuare a rimuovere i vincoli all'attività d'impresa, incoraggiare la concorrenza, stimolare l'innovazione. Bisogna misurarsi apertamente con il progresso tecnologico, perché non c'è alternativa se si vuole tornare a creare lavoro e benessere. Le scelte della politica economica e le decisioni di ciascuno di noi richiedono una visione d'insieme. Per rispondere alle sfide servono investimenti robusti, in conoscenze ampie e diffuse, in competenze nuove e interconnesse, ingredienti essenziali per far fronte ai rischi per l'occupazione e attenuare le disuguaglianze che la rivoluzione digitale rischia di accentuare. L'Italia deve approfittare del consolidamento della ripresa per accelerare il necessario aggiustamento strutturale dei conti pubblici. L'elevato debito è un fattore di vulnerabilità grave, condiziona la vita economica del Paese. Un programma di riduzione del debito pubblico credibile può rafforzarsi da sé. Si può innescare un circolo virtuoso simile a quello che ci consentì di aderire all'euro. Non potremmo rendere un tributo migliore alla memoria di Carlo Zaglio Ciampi che quel programma definì e mise in atto.